Buonasera a tutti e benvenuti. Nel video di oggi vorrei parlare della notizia che in questi giorni ha avuto un certo seguito, devo dire, sulla stampa anche un po' in Italia, e cioè il crollo di Facebook. L'altro ieri in particolare le azioni hanno perso circa il 26% del valore in un solo giorno, facendo anche raggiungere un nuovo record, cioè la perdita di valore di borsa della società di 250 miliardi di dollari, che è un record assoluto di la maggior perdita di valore in una sola seduta di borsa. Questo dato, diciamo, da record dei primati ha comunque così allarmato anche molti analisti, insomma, anche perché la notizia che avrebbe scatenato questa, diciamo, questo crollo sarebbe stato il fatto che Facebook in sostanza ha perso utenti, sta un po' arrancando, andando peggio rispetto alle aspettative. Ricordiamo Facebook comunque un colosso che poi adesso si chiama Meta, la società che racchiude Facebook, Whatsapp e tutta una serie di altre imprese che di fatto sono così nel, diciamo, nel business della pubblicità in un certo senso. Cioè loro offrono a noi servizi gratuiti, raccolgono tutti i nostri dati e attraverso tutto un sistema anche abbastanza inquietante di incrocio di dati, tale per cui riescono a volte a sapere di noi stessi più di quanto sappiamo noi, per paradosso, e le nostre interazioni, eccetera, e poi rivendono questi dati con pubblicità mirate e quindi, diciamo, un business abbastanza unico nel suo genere. Chi è stato rivoluzionario? Insomma, la storia di Facebook è abbastanza leggendaria, ci hanno anche fatto il film The Social Network e dietro c'era anche il noto Peter Thiel, insomma, che è l'imprenditore americano dietro a tutta una serie anche di grosse società tecnologiche in ogni ambito, insomma, quindi oltre ovviamente a Mark Zuckerberg che, diciamo, è così il volto di Facebook. Però, appunto, la società, a parte, diciamo, negli ultimi anni ha avuto anche tutta una serie di, così, di critiche da ambo i lati, nel senso che magari in questo contesto di divisione, diciamo, c'era una parte che attaccava Facebook dicendo, Facebook e ovviamente altri social network, altre grosse imprese, diciamo, di queste tecnologiche che, appunto, attaccavano la società dicendo che non faceva nulla per frenare, diciamo, la pubblicazione di informazioni false, disinformazione, incitamento all'odio, eccetera. E, in sostanza, li accusavano di dire, voi prendete i soldi e le pubblicità, chiudete tutti e due gli occhi, non ve ne importa nulla e questo, però, visto che comunque, siete immense società con un potere enorme, fa sì che, comunque, queste operazioni condizionino milioni di persone con informazioni false, eccetera. E quindi, diciamo, se prima era un po' un far west, dopo hanno cercato, secondo alcuni in modo insufficiente, secondo altri, magari anche troppo zelante, di mettere, diciamo, riparo. E chi usa oggi Facebook vede che, sostanzialmente, è diventato un po' l'opposto. A un certo punto, loro, cioè, su Facebook non si possono più usare certe parole, non si possono più pubblicare certi contenuti e viene così bollata, come disinformazione, anche a volte notizie che magari non lo sono, diciamo, o comunque c'è un dubbio. È noto, per esempio, il fatto che nei primi mesi della pandemia, quando si diceva che poteva essere così un virus creato in laboratorio, subito si veniva così aggrediti di false informazioni, notizie false, non è vero, però magari si poteva dire, non si sa, ecco, forse quello era un approccio più obiettivo, ma anche, mi ricordo, i telegiornali, famosi, dicevano, questo è fake news, diciamolo, che non è vero. Ecco, dopo, negli ultimi mesi, invece, lo stesso presidente americano, Biden, avrebbe ventilato questa ipotesi e fu nota la notizia, che, diciamo, curiosa, che Facebook a quel punto ha cambiato le proprie parametri, per cui a quel punto quello non era più considerato disinformazione e quindi non era più bloccato. Ecco, questo fa capire, insomma, che sostanzialmente danno ad alcune persone, così, il diritto su una società privata, tra l'altro, di dire cosa puoi dire e cosa non puoi dire e questo ovviamente non vale solo per Facebook, vale per tutta una serie di società. Poi fa ridere che adesso si rivolgono ad alcuni, così, giornalisti o, diciamo così, persone che, così, si erigono a giudici della verità, per cui ci hanno addirittura di criteri, per cui quelle persone decideranno cosa è vero, cosa è falsa. Gente che magari non ha nessun tipo di competenze in un certo ambito, però loro, così, pescando di qua di là, valuteranno se è una cosa è vera o falsa. Ecco, questo, insomma, è molto criticabile, seppure ovviamente c'è il problema opposto della disinformazione. Però questo probabilmente ha contribuito a creare un clima in cui comunque ci si sente repressi, sorvegliati, e questo non parlo solo adesso delle ultime notizie insomma legate alla situazione che viviamo, ma anche a livello commerciale, avendo così delle linee guida molto, molto, da un lato fumose, quindi generiche su, per esempio, ciò che è spam, ciò che è incitamento all'odio, ciò che è razzista, ciò che è magari contro le minoranze, eccetera. Però tante volte notavano molte persone come magari certi personaggi possono dire, anche più noti, certe cose anche pesantissime, insomma, offese anche terribili, insomma, altro che incitamento all'odio, questi dovrebbero morire, dovrebbero fare fare, e anche se segnalati di fatto rimangono lì quei post. Altre volte invece magari, ripeto, casi di notizie vergi, articoli di giornali ripubblicati vengono bollati come disinformazione o probabile disinformazione, anche con delle punizioni degli utenti, per cui molti utenti dicono a quel punto non puoi usare il profilo per totte giorni, eccetera. Una cosa che tutto questo, seppure magari anche con le migliori intenzioni, fa sì che tante imprese e tanti privati smettano di utilizzare Facebook. A un certo punto viene a mancare il senso, se uno si sente così come in un asilo nido con, diciamo, magari le maestre che ti guardano ogni momento. E quindi tanti stanno smettendo forse di usarlo. Questa, diciamo, è la ricostruzione che faccio più io. Insomma, ricordo anche, ovviamente non parlo solo di Facebook, ma casi come fu per esempio anche quello di Twitter, che censurò a un certo punto il profilo dell'ex presidente americano, dopo tutti quei fatti molto particolari che erano avvenuti. Però mi colpì la critica che molti, anche i suoi forti oppositori politici, fecero, del fatto che comunque era inquietante che una società privata decidesse di censurare totalmente un profilo addirittura del presidente americano. Quindi dicendoselo fanno a lui che oggi magari è la persona che non mi piace, ma domani chissà chi sarà e chissà su quali criteri. Già aveva evidenziato il problema di queste società che quando gli fa comodo dicono siamo società private e quindi facciamo come ci pare, escludiamo chi ci pare, se ti va bene il nostro servizio bene, se no vai da un'altra parte. Ma di fatto hanno miliardi di utenti, centinaia di milioni di utenti, non è così, hanno un potere particolare e quindi dall'altro appunto quando gli fa comodo invece dicono noi abbiamo un ruolo particolare quindi ci prendiamo la libertà di dire questo puoi dire, questo no. E questo parlando anche con molte persone sta allontanando, ripeto, non solo utenti ma anche imprese che fanno pubblicità e poi comunque le due cose sono collegate perché chiaramente via via che una cosa è sempre meno di trend, ha sempre meno crescita, ha sempre meno utenti, anche sempre meno società ovviamente ci investono e questo diciamo è un problema. Ma un'altra analisi molto interessante è stata pubblicata proprio oggi addirittura dallo stesso Michael Bloomberg che è il fondatore della nota testata Bloomberg, tra l'altro ex candidato presidente americano insomma in opposizione Trump. E' interessante da lui un titolo particolare su questa vicenda, cioè il cataclisma di Facebook è stata una vittoria del capitalismo e in questo articolo che poi posso inserire in descrizione è interessante il ragionamento che lui fa, cioè lui dice in sostanza premesso tutti i problemi che ci sono legati alla società, il calo di utenti, appunto una perdita del 26% e di 250 miliardi di dollari di capitalizzazione in un solo giorno, tra l'altro molti si aspettavano che ieri rimbalzasse il titolo, invece così non è stato, è crollato, è rimasto più o meno invariato al 0,28% mi pare più o meno, insomma ecco, è rimasto invariato, quindi questo crollo di un quarto del valore è rimasto tale. E' stato impressionante. Michael Bloomberg appunto ricostruisce questo dicendo premesso che purtroppo il legislatore, soprattutto nel settore tecnologico che è in estrema evoluzione, veloce, cioè crea, è distruttivo della realtà e crea delle situazioni nuove, ecco questo è un esempio di queste grosse società che formalmente sono società private ma in pratica hanno un potere enorme anche di condizionare enormemente elezioni politiche di paesi, il sentire di miliardi di persone, le opinioni che molte persone hanno, quindi possono essere anche pericolosamente uno strumento di propaganda dei governi oppure strumenti magari utilizzati per rovesciare governi e così via, insomma hanno un potere enorme e non possono così pararsi dietro a un dito dicendo no ma noi siamo società private perché il peso è diverso, però anche le attività che svolgono, il ruolo che hanno è qualcosa di nuovo che la legge non riesce tante volte a incasellare, a regolamentare adeguatamente e lui dice premesso questo problema che appunto è molto grave, sentito, per assurdo è una vittoria del capitalismo perché è lo stesso mercato capitalistico che fa quello che i legislatori non riescono a fare e in particolare lui ricostruisce questo crollo come l'effetto almeno sentito da molti poi ovviamente sono tutte ricostruzioni del fatto che facebook è come era stato non so se ricordate myspace di microsoft no che tutti usavano questo appunto sistema anche con le chat msn ricordo che tutti i miei amici noi la usavamo tantissimo tutti stavano su questa chat avevano questo myspace dove era una sorta di diario virtuale dove si pubblicava entrò facebook io ricordo facevo i primi anni di università milano era il 2006 2007 così e mi parlano in questo facebook tra l'altro uno studente straniero mi ricordo feci questo profilo fui tra i primissimi molti neanche sapevano cos'era che era così quasi per gioco della gente che conoscevo ce l'avevano due persone questo facebook cioè era sconosciuto non se ne vedeva neanche l'utilità particolare era cosa così per gioco nel giro di poco poi tutti lo sappiamo ha preso sempre più il sopravvento per tutta una serie di sistemi che poi sono stati cambiati all'inizio c'era poca privacy quindi uno vedeva tutti gli affari delle persone e molti lo facevano per quello per vedere dove era quello cosa faceva con chi era cercare di capire una persona oggi lo diamo per scontato ma una persona la senti cerchi su internet una volta fino a dieci anni fa 15 anni fa non esisteva questo quindi ha rivoluzionato il nostro modo di agire che era diverso da myspace dove tu avevi certi utenti certe persone che hanno amici ti chiedavano l'indirizzo era un po' una sorta di numero di telefono ma legato alla comunicazione chat lì era stato diverso aveva cambiato completamente il mercato e dopo ci si sono buttate le imprese con le sponsorizzazioni eccetera problema che anche lì o è cresciuto troppo è stato mal gestito io conosco tante società imprese che hanno dei processi tutto va liscio nei loro algoritmi nelle loro procedure bene se comincia esserci qualche problema per l'assistenza non riesci mai a parlare con un essere umano insomma forse tarato apposta non lo so di fatto sei bloccato e ti mandano così una procedura dicendo devi fare così tu lo fai non funziona e finisce devi buttarli a tutto tante volte oppure rivolgerti ai professionisti gente che si fa pagare moltissimo che magari riesce non lo so comunque a risolvere quei problemi ma ecco è un servizio clienti neanche assente di più cioè proprio almeno ecco per le esperienze che mi hanno raccontato e per dire che questo però anche un problema per chi vuole sponsorizzare tante volte e nel frattempo sono entrati ecco cosa diceva Michael Bloomberg e tutta una serie di concorrenti in particolare il più famoso è stato tic toc che ha avuto una crescita impressionante solo negli ultimi cinque anni poi c'è il noto twitter che comunque diciamo anche questo è abbastanza maturo ma poi ecco faceva lui stesso tutta una serie di elencazioni di società insomma che stanno entrando sempre più violentemente nel mercato piacciono sempre più ai giovani e diciamo sempre più questo costante calo di degli utenti preoccupa il mercato e gli investitori perché le posizioni dominanti nel mercato tecnologico spariscono nel giro di pochissimo tempo è stato appunto l'esempio di myspace che va dietro microsoft quindi non era così una società di moda insomma ecco eppure è stata spazzata via da questo nuovo arrivato apparentemente insignificante che era facebook appunto per dire come tutto rapidissimo nell'evoluzione e quindi ecco giustamente dicevano altri servizi come discord snap youtube twitch che è molto utilizzato soprattutto per le dirette tanti che conosco le fanno stanno impressionantemente diciamo sorpassando non dico sorpassando ma insomma comunque aggredendo la posizione di facebook che si dominante ma insomma è sempre in un certo senso sempre più a rischio insomma e appunto l'edito a video a un dato adesso se lo ritrovo e diciamo sì ecco facebook da sola ancora un quarto di tutta la pubblicità digitale però ecco diciamo un primato che fa presto a sparire quindi questo insegna anche appunto che soprattutto nel settore tecnologico cambia tutto molto rapidamente forse questo uno dei motivi per cui queste società in crescita tante volte vengono hanno anche una maggiore volatilità del prezzo insomma sembra evidente cioè noi diamo per scontato questo ma tante volte non ci poniamo il problema del perché ma comunque al di là del caso specifico di facebook che abbiamo visto c'è anche il problema in generale di questo mercato volatili infatti in questi giorni in queste settimane soprattutto vediamo una forte volatilità del mercato azionario tutto anche di società appunto abbastanza stabili vedevo oggi per esempio quelle alimentari che comunque sobbalzavano molto più o meno due per cento molto variabili e adesso senza fare paragoni improprio anche perché io dico sempre per primo che è impossibile prevedere tutto ma mi ha ricordato questo libro che avevo già recensito del grande john kenneth galbright che appunto parla del grande crollo del 1929 e ripeto se non avete visto il video in cui lo recensisco vi consiglio di farlo ma in ogni caso vi consiglio anche di comprare il libro che anche piccolino ma è una cronaca di tutto quello che aveva preceduto il crollo del 1929 quello che poi ne ha seguito ma soprattutto tutto il durante infatti non è stato solo il martedì nero il giovedì nero no che vengono un po così ricordati da tutti ma è durato rifatto vari mesi nella sua fase e questo resoconto proprio giorno per giorno che fa john kenneth galbright 30 anni dopo circa negli anni 50 secondo me è molto importante e sono andato a rileggere proprio ieri questo queste pagine mi sembra ma sarà perché senza autosuggestione perché ovviamente ho letto questo libro già prima però questa grande variabilità del mercato tante volte è segno di nervosismo potrebbe non significare niente come è successo anche negli altri anni gli ultimi anni e poi il mercato continuava a salire ma a volte prima dei crolli diciamo c'è anche questo questo comportamento di paura di tensione ma ripeto non è che significa che ci sarà un crollo nessuno lo può dire insomma ovviamente però comunque è interessante perché la variabilità sta aumentando molto e soprattutto per chi magari un piccolo investitore questo può diventare pericoloso l'aspetto psicologico lo dico sempre da piccolo investitore importante uno tante volte compra quando il mercato sale e svende quando il mercato è crollato e questo diciamo non è che si può prevedere e prevenire tante volte fa parte della nostra psicologia io stesso ci casco il segreto che molti consigliano e personalmente mi sento di fare anch'io anche per prevenire comportamenti del genere è investire solo quello che si è disposti a perdere sembra un raggiamento banale ma quello che consigliano è questo cioè investire dei soldi sapendo che possono anche crollare poi magari guadagnano però non lo sappiamo quindi se una ragione in termini proprio monetari di soldi c'è oddio ha perso non so 500 mille duemila euro si fa prendere lo sconforto a volte vende oppure magari si fa così ingolosire vedi che ho investito mille euro ne ha guadagnati 200 la caspia ce ne metto di più la ce ne butto 10mila magari anche non lo so i risparmi che mi servono per qualcosa tanto questo mercato e te ce li metto poi se mai vendo se va male cioè e mettono troppo magari a volte e questo è devastante insomma ecco quindi il consiglio che ribadisco soprattutto in fasi così del mercato è investire poco cioè poco nel senso quello che si è disposto a investire che si può permettere di perdere eventualmente per brevi periodi mantenere i nervi saldi se ci credete oppure magari se siete persone con l'ansia anche dire sentite ritiro i soldi e ci ripenseremo poi se uno perde altri guadagni pace però magari vivo tranquillo oppure ecco ridurre magari io per esempio sto facendo così comincio un po ridurre certe cose con investito per una questione di tranquillità mia non perché poi magari prevede un crollo ripeto non si può sapere però è importante diciamo questo per mantenere proprio una mente fredda lucida e anche evitare errore appunto cioè per paradosso evitare di perdere soldi perché spesso succede come anche alcuni di voi mi scrivevano spesso nei commenti c'è un ciclo di mercato che però riguarda anche la psicologia della persona per cui abbiamo paura di comprare aspettiamo che sale che sale che sale quando vediamo che sale tante volte compriamo lì crolla uno comincia a vedere che scende però vabbè adesso aspetti aspetti poi non vuoi ammettere la perdita alla fine passa il tempo a me è successo così arrivi magari a una perdita del 50 del 60 dell'80% dice ormai questa è andata senti vendono ma fare ne vogliono dimenticare di questa brutta esperienza e spesso poi risale è incredibile il tempismo ma perché non è che magia è perché la psicologia che abbiamo noi tante volte ce l'hanno milioni di persone che interagiscono nel mercato anche piccoli investitori e quindi questo è devastante tante volte per questo è importante come dico sempre fare un budget personale valutare cosa come investire quanto si può investire se i soldi ci servono non ci servono entro quali termini la nostra personale avversione al rischio le nostre competenze eccetera e quello che si è disposti anche a perdere ipoteticamente cioè nel senso in modo di dire uno ragiona in modo freddo e non di dire oddio quelli sono i soldi che mi servono per comprare una macchina nuova o la casa o quello che sia ma sono soldi che così posso non dico scommettere perché è un termine improprio però investire li lascio lì poi il mercato me ne preoccupo fino a un certo punto e se credo in quei titoli in quelle azioni come diceva anche warren buffett cioè se voi acquistate nell'ottica di dire nel lungo periodo oppure per i dividendi per delle rendite non vi dovrebbe preoccupare troppo il prezzo se sono società valide e solide quindi questo è il consiglio fatemi sapere cosa ne pensate anche nel mercato di la vicenda di facebook e come sempre fatemi ecco nei commenti sapere io poi in descrizione inserisco ecco le notizie che cito le fonti le notizie che cito e anche fatemi sapere se avete letto questo libro il grande crollo di galbright e se mai cosa ne pensate ripeto una lettura molto breve un libro molto bello da leggere veloce non è troppo tecnico ma è molto molto utile anche proprio vi ripeto come una macchina nel tempo vi porta lì è veramente bello grazie e di nuovo ciao a tutti grazie